un abilizzato rinuncerà a un'altra città per farciarli e noi tanti italiani a faccola come in questi giorni vieni qua che le faccio la foto a papà per il filmino papà dai lo lo vieni faccia la nonna che le fa la foto a papà vieni da nonna vai vieni 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 che le fa la foto a papà vieni 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 adesso le perdi in legna vieni qua vieni qua che le fa la foto a papà vieni 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 da nonna dai lo lo vieni qua che le fa la foto a papà vieni qua che le fa la foto a papà vieni qua che le fa la foto a papà vieni qua che le fa la foto a papà vieni qua che le fa la foto a papà vieni qua che le fa la foto a papà vieni qua che le fa la foto a papà vieni qua che le fa la foto a papà vieni qua che le fa la foto a papà vieni qua che le fa la foto a papà vieni qua che le fa la foto a papà vieni qua che le fa la foto a papà vieni qua che le fa la foto a papà vieni qua che le fa la foto a papà vieni qua che le fa la foto a papà di creatori di musica di ingesto deporati in mano con cali di planti cristalenti alla fine dell'onsocento e le donne dalle mani d'ordine che realizzano i tradizionali venti apposta la legna, che dopo li abbiamo accendere fuoco delle proprie opre d'arte, il Mediterraneo da sempre ponte tra i popoli in epoca antichissima e anche oggi un vestaggio di bambino questo è successo di sera per la Carmen di Bizet che ha inaugurato con uno stile sobrio la stagione lirica del teatro alla scuola medica, l'inviata Maria Rosario ma certo che... una scommessa pinta quella del solintendente Isner a raffidare l'opera ma si parte con la capo... vedi nonna vai vedi nonna vai voglio far vedere le mani sporche a nonna vai vedi qua 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 vedi qui se Poi quando fai stop lo memorizza solo qua, è un bilancio in pareggio che non è una questione da poco.